Fuori! Perciò, la posa che assume indica che si sta evolvendo per contrastarlo in combattimento. Le sue azioni hanno una logica ben precisa. Ora che ci penso ha un che di terrificante. Il suo potere è incredibile. Così non va bene. Resisti, Hit! Il suo Kaioken non durerà ancora a lungo. Sbrigati! Non c'è bisogno di un faccia a faccia. Continua a evitarlo e porterai a casa la vittoria! Saggio come sempre, Lord Champa. Che fai? Mi prendi in giro? Ed è anche una persona così perspicace. Allora, prego, Lord Champa, mi ascolti. Hit è orgoglioso e non accetterà mai di vincere così. Chi se ne importa? Questa sfida riguarda soltanto Beerus e me. Faresti meglio stare al tuo posto. Ascoltami, ragazzino. Voi non siete altro che pedini di cui ci serviamo nel nostro gioco. Ma, ma, ma... C'è qualche problema, Lord Champa? Che cosa è successo? Non le mancherà occasione di punire i componenti della squadra. Ma fino a quel momento mi piacerebbe vedere l'esito dell'incontro senza ulteriori interruzioni, se non le spiace. Ti ringrazio, Hit. È giunto il momento di dimostrare che non siamo solo pedini. La squadra del Sesto Universo è composta ad avversari veramente incredibili. Sono contento di avere combattuto contro il più forte di loro. Si ricomincia! È quasi come se bastasse solo la loro determinazione a frantumare la barriera. Ti illudi se pensi di poter competere con il mio salto temporale! Ti illudi se pensi di poter competere con il nostro gioco.